Ciao, io sono Manuela e sono un'insegnante di danza. Sono qui oggi per farvi un po' di compagnia. Vorrei fare degli esercizi semplicissimi di danza e unirli a degli esercizi che fanno bene al corpo e alla mente. Quindi, se siete pronti, possiamo cominciare. Io resto a casa in forma, quindi iniziamo con qualche esercizio. Diverchiamo con le gambe, braccia su un bel respiro e andiamo verso l'alto, su verso il soffitto. Allungo, tirando su le spalle. Allungo, su, su. Lascio cadere le braccia, giù e torno su. Giù, torno su, giù, torno su. Ripeto l'esercizio. e su. Lascio cadere le braccia. Giù, su, giù, su, giù. E rimando lateralmente. Allungo di lato, spostando il busto. Solo il busto. Potete piegare un pochino le ginocchia. Lascio cadere giù le braccia. Su. Su. Ripeto di lato. giù. Giù. L'ultimo. Su le braccia. Allungo. Su, 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 su. Vado di lato. Torno. 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 Un piccolo piegamento. Ginocchia dritte, mani alle spalle incrociate. Tiro su il mento. E braccia dietro. Braccia dietro. Braccia dietro. Di nuovo. Piccolo piegamento. Su. e dietro, dietro, dietro. E braccia aperte. Adesso proviamo con la mano a prendere il ginocchio al contrario. Uno. Due. Potete fare una torsione del busto. E ancora. Ancora. e stop. Respiro. Allungo. Allungo. Lascio. Allungo. Lascio. E ripeto. E uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. Ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Stop. E allungo. Su. 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 Lascio. Allungo. Su. 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 Lascio. Chiudo i piedi. E adesso facciamo. Apro i piedi. Chiudo i piedi. Apro i piedi. Chiudo i piedi. Ci mettiamo le braccia contemporaneamente. Su. Giù. Su. Giù. E uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Benissimo. Passiamo al prossimo esercizio. Cambio unite. Sulle braccia. Di nuovo allungo al soffitto. Alzo i talloni. E. Alzo i talloni. E. Alzo i talloni. Scendo con il corpo. Aprendo le braccia. e rimango guardando il pavimento. Braccia sopra la testa. Scendo. Verso il pavimento. Se riesco. Tocco con le mani a terra. Piego le gambe. Mento al petto. Torno su. Di nuovo. Sulle braccia. Alzo il soffitto. Alzo i talloni. Scendo. Alzo i talloni. Scendo. Vado in avanti con il corpo. Guardo il soffitto. Braccia sopra la testa. Scendo. Cercando di toccare il pavimento. La testa guarda le ginocchia. Un piccolo piegamento. Salgo su. Divarico un po' le gambe. Braccia aperte. Piccolo a fondo. Su. Alzo i talloni. Piccolo a fondo. Su. Alzo i talloni. Di nuovo piccolo a fondo. E faccio la stessa cosa che ho fatto con i piedi chiusi. Rimango lì. E guardo per terra. Braccio sopra la testa. Scendo giù. E un piccolo piegamento. Stand. Un piccolo piegamento. Stendo. Vengo su sempre con il mento al tetto. Di nuovo. Piccolo piegamento. Incrocio le braccia su i talloni. Piccolo piegamento. Incrocio le braccia su i talloni. L'ultimo. Rimango lì. Guardo il pavimento. Braccio sopra la testa. Scendo. E guardo in avanti. E stand. Guardo in avanti. E stand. Braccio avanti. Spingo le spalle verso il pavimento e il mento verso il tetto. Alzo i talloni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno con le mani. Piego le ginocchia. Mento al tetto. Mi srotolo. Chiudo. Il piede accarezza la gamba. Prendo il ginocchio. E lo porto al petto. Lo porto al petto. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Lo lasciamo scivolare. Apro dalla parte opposta. Stessa cosa. Accarezzo. E porto il ginocchio al petto. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Lo lascio scivolare. E adesso passiamo al prossimo esercizio. Partiamo dai piedi chiusi. Apriamo e facciamo uno a fondo. Braccio dietro, guardo il soffitto. A fondo. Braccio dietro, guardo il soffitto. Di nuovo a fondo. Giro i piedi cercando di portare il tallone della gamba di andro sul pavimento. Schiena dritta. E. Scendo. Se riesco appoggio le mani sul ginocchio. Altrimenti va bene lasciarle a terra. E. Stendo. E. Scendo. E. Stendo. Torno al centro. Piego le ginocchia. Mendo il petto. Salgo. E tutto lo ripeto dalla parte opposta. Piego. Guardo il soffitto. Guardo il soffitto. Guardo il soffitto. Piego. E. Giro. Spendo. Scendo. Mi raccomando il ginocchio allineato al tallone. Stendo. E. Stendo. E. Stendo. Torno al centro. Piego le gambe. Mento il petto. Giù le spalle. Torno sulla testa. Chiudo le gambe, adesso mi sposto lateralmente facendo un incrocio di braccia, piego le gambe e mi abbraccio, braccio, fa tutto il giro e va lateralmente e torno, cambio dall'altra parte, mi abbraccio piegando le gambe, braccio, allungo e stessa cosa. Apro, le braccia e le gambe insieme, scendo di lato, braccio, allungo lateralmente e torno, l'altro lo raggiunge, cambio, allungo e torno. Passiamo al prossimo esercizio. Continuiamo un po' di stretching interno, scendo giù, mi appoggio sul fianco, incrocio il piede davanti al ginocchio, prendo il ginocchio con braccio contrario, torsione. E cambio, sempre davanti al ginocchio opposto, torsione e cambio. Schiena dritta, mani sulle ginocchia, facciamo una contrazione portando il mento al petto e stendo. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Benissimo, allungo i piedi sulle braccia, piedi in flex, scendo cercando di arrivare a toccare le punte. Se non ci arrivo, non importa, posso anche arrivare a toccare le caviglie, l'importante è che la schiena sedia sia dritta. Adesso scendo giù con il collo, rimango uno, due, tre, quattro. Incrocio il corpo verso la gamba piegata, un braccio fa un giro, da su, scendo verso quella di terra. Li allungo tutti e due, rimanendo con l'altra gamba aperta, con il piede attaccato al ginocchio. Piede in flex, tiro e lascio. Prendo la gamba di terra, la porto giù, cambio, torsione, braccio si alza, apro la gamba che era piegata, vado verso il piede di terra, stop. Piede in flex, scendo giù, risalgo, di nuovo prendo la gamba e scendo. Di nuovo un allungo, vado giù cercando di toccare le punte dei piedi. Mi raccomando, non incurvate la schiena, giù le spalle, schiena dritta. Rilasso, vado giù e da qui apro le gambe, poggiando le mani indietro, spingendo le ginocchia sul pavimento. Adesso, chiudo e di nuovo le riapro e apro e chiudo, cercando di unire i piedi e apro e cercando di spingere le ginocchia sul pavimento. E, chiudo, la schiena dritta allungata, mi raccomando, verso l'alto. Apro e chiudo e apro. Prendo le caviglie e cerco di allungare la schiena portando le ginocchia verso il pavimento. Bene, prendo le ginocchia, porto di nuovo avanti le gambe, un bel respiro, cerco di andare dritta, dritta, dritta con la schiena fino a giù, poggio anche i gomiti sul pavimento e conto fino a quattro. 1, 2, 3, 4, adesso il flex, 1, 2, 3, 4, un bel respiro, giù la testa, risale sempre attraverso il mento nel petto, allungo verso l'alto, apro, mento alto e passiamo al prossimo esercizio. Bene, ci accomodiamo sul nostro tappetino, gambe piegate, mani alle ginocchia, schiena dritta, contrazione, su, contrazione, su, rimango in contrazione, lascio le mani, alzo il mento, porto le mani sul petto e adesso salgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimango, rimango, rispendo le mani, mi aggancio alle ginocchia, torno su e di nuovo contrazione, lascio, mani al petto e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allungo, riprendo le ginocchia, su, 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 di nuovo riscendo, adesso unisco le mani, gomiti ben laghi, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno su, allungo la schiena, contrazione, lascio, di nuovo, prendo le mani e ricomincio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno di nuovo su, porto le ginocchia al petto, di nuovo contrazione, di nuovo su. Bene, adesso, prendo il pacchettino, io mi metto di lato così potete vedermi. Facciamo un bel respiro, scendo, infilo, stendo una gamba, poi l'altra. E proviamo a fare, 1, con il ginocchio verso la spalla contraria, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ginocchio, ginocchio, mi svolto, lo su, allungo, respiro e ne facciamo un altro. Scendo giù, scendo giù, ginocchio, ginocchio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ginocchio, ginocchio, giù la schiena e allungo. Piano piano mi srotolo, un bel respiro e ci siamo. Grazie. Bene, adesso diamo inizio ad una parte un pochino più movimentata. Va bene? Quindi, in piedi, seguitemi con calma, facciamo un lavoro di coordinazione. Iniziamo dalle gambe. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. In avanti. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Tutto di seguito un pochino più veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso ci aggiungiamo le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un pochino più veloce con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutto di seguito, senza e con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con le braccia. 3, 4, 5, 6, 7, avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, ci aggiungiamo un ultimo passo facendo da terra su con la gamba, su con la gamba, su con la gamba, su con la gamba. Quindi una volta che abbiamo fatto il passo avanti con le braccia, l'ultimo passetto sarà su, 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 su. Ok? Proviamo a legarlo tutto quanto dall'inizio, senza e con le braccia. e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, lo facciamo un'ultima volta. Adesso le braccia, quando saliremo su con la gamba, le tireremo su, 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 su. Ok? Dall'inizio. e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su, 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 7, 7, 8. benissimo, abbiamo finito grazie